Buongiorno a tutti, allora magliettina come sempre perché bisogna sempre far rivedere la maglietta della settimana con la frasettina simpatica e poi andremo naturalmente a fare le schedine, bollettine del gigiune per quanto riguarda naturalmente la Nation League perché ci sono ben altre nove parti tonsole. E' esatto, purtroppo ieri tra una balla e l'altra ho sbagliato proprio l'Italia, però una cosa bisogna dirla, ho detto attenzione che Zeko ce la mette come al solito, spero che qualcuno si sia giocato Zeko marcatore che così ha preso, penso una buona cifra, penso che almeno a tre Zeko lo davano, non ho guardato francamente, però almeno la soddisfazione, comunque bando alle ciance, ciancio alle bande, anche ieri 5 su 8 nella schedina, 6 su 8 nell'altra schedina, la media è sempre discreta dai, diciamo discreta. L'amplein per ora non l'ho ancora fatto, però c'è sempre la sorpresina che non ti aspetti, per esempio la vittoria dell'Austria e Norvegia francamente e non me l'aspettavo. Comunque andiamo a vedere le partite di sabato 5 settembre, si parte con Islanda e Inghilterra 2, Danimarca-Belgio 2, Svezia-Francia 2, a mio rischio è pericolo, però credo che la Francia in Svezia non sia babba come noi che siamo andati a perdere 1-0 e siamo stati a casa dal mondiale, anche se ormai sono passati ben 4 anni, se non sbaglio, 2006, 10, 14, 18, 4 anni, no, 2 anni, 2 anni, 2 anni, scusate, 2 anni, 2018, giusto, 2 anni. Proseguiamo con Portogallo-Croazia 1-X, a mio rischio è pericolo perché questa è una partita da tripla, però danno favorito il Portogallo-DCR, anche perché la Croazia ultimamente è un po' in caduta libera, poi magari mi fa la partita della vita. Proseguiamo con Macedonia-Armenia 1, che è partita delle 15, quindi mi auguro che questo video sia online per la mattinata di sabato, Azerbaijan-Lussemburgo 1-X, perché non mi fido troppo dell'Azerbaijan, e ultimamente Lussemburgo è un attimino meno squadra materasso rispetto a tanti anni fa, Cipro-Montenegro-X2, Estonia-Georgia 2, Gibilterra-Sanmarino 1. Veniamo alla schedina alternativa, Islanda-Inghilterra over 1,5, sto schiscio perché le squadre inglesi sono un attimino così così diciamo, o ti segnano 4-5 gol o 1-0, 2-0 al massimo, non sprechiamoci più di tanto, io ricordo il Manchester United che era proprio il classico, che tutte le volte mi faceva sballare le schedine, proprio perché davo per scontato l'over 2,5, giocano con squadrettini, poi mi vincevano 1-0. Proseguiamo con Danimarca-Belgia over 2,5, Svezia-Francia a gol perché si presta al gol, la Svezia in caso un gollettino alla Francia lo fa, poi magari alla Francia 2-3 gol, in fricca, e in ogni caso un gol a Francia lo segna sicuramente. Portogallo-Croassia a gol perché anche questa è una gran bella partita, Macedonia del Nord-Armenia over 1,5, anche perché credo che Pancev e compagni un paio di golletti all'Armenia possano anche riuscire a farli, Azerbaijan-Lussemburgo over 2,5 perché comunque quando c'è di mezzo il Lussemburgo i gol fioccano, Cipro-Montenegro over 2,5 vale lo stesso discorso purtroppo per il Lussemburgo, Cipro-Malta eccetera sono squadre che i gol li prendono spesso e ahimè poco volentieri ma li prendono. Estonia-Georgia over 1,5, Gibilterra-San Marino over 2,5 perché ahimè sapete che San Marino è la squadra materasso per onore storica dai, diciamo storica, fermiamoci a storica. Purtroppo, visto che San Marino è ospite dell'Italia, veniamo alle mie bollettine, ho scelto come sempre quattro partite, quindi Macedonia-Armenia 1, Estonia-Georgia 2, Danimarca-Belgio 2, Gibilterra-San Marino 1, con 5 euro 38,50 euro. Bollettine alternativa, Macedonia-Armenia 1X, Estonia-Georgia X2, Danimarca-Belgio 2, Gibilterra-San Marino 1, con 5 euro raddoppi semplicemente la posta andando a vincere 10 euro e 10, quindi giustamente, se no me lo fate notare, ho tolto la doppia in Macedonia-Armenia ho messo 1, quindi Macedonia-Armenia 1, Estonia-Georgia X2, Danimarca-Belgio X2, Gibilterra-San Marino 1 e con 5 euro se ne vincono 16,41. Terza bollettina, Macedonia-Armenia 1X più over, Estonia-Georgia X2 più over, Danimarca-Belgio X2 più over, Gibilterra-San Marino 1X più over. Con 5 euro se ne vincono 29,58. Naturalmente, a vostra discrezione, volendo togliere magari la fissa su Gibilterra-San Marino, la doppia, scusate, su Gibilterra-San Marino, per alzare la quota. O se no, se pensate che possano uscire più gol, fare over 2,5, over 3,5 eccetera, quella è sempre a vostra discrezione. Io parto dalla base, poi dopo ve la giustrate voi come volete. Quarta bollettina, quella che a me fa libidine, gol casa, gol ospite. Macedonia-Armenia, gol ospite. Estonia-Georgia, gol casa. Danimarca-Belgio, gol casa. Gibilterra-San Marino, gol ospite. Ecco, su Gibilterra-San Marino, gol ospite. Diciamo che è un po' a rischio, perché San Marino magari il gol non lo segna, però giocando con Gibilterra, che non è che è una squadrona gigantesca, potrebbe anche finire 2-1, 3-1. Quindi è un rischio che si può correre. Comunque con 5 euro se ne vincerebbero 45,29, infatti è per quello che ve lo dico. Guardate sempre le quote e poi usate la vostra cavessa. Se vi piacciono le mie bollettine mi recoppiate, se non vi piacciono fate l'opposto che magari conviene. Quinta bollettina, quella già un po' folle. Macedonia-Armenia, gol piover. Gibilterra-San Marino, gol piover. Estonia-Georgia, gol piover. Danimarca-Belgio, gol piover. Con 5 euro se ne vincono 157,83, quindi vale lo stesso discorso del gol casa-gol ospite. Vedete voi come giocarvele, se non inserirne una, se mettere il no-goal, se mettere l'over col no-goal, perché magari pensate che comunque tre gol saltano fuori, ma li segna solo una squadra. Vedete voi. Infine, la sesta bollettina, Macedonia-Armenia, uno più gol. Gibilterra-San Marino, uno più gol. Estonia-Georgia, due più gol. Danimarca-Belgio, due più gol. Con 2 euro se ne vincono 162,60, quindi giocate 2 euro che bastano e avanzano. Se invece avete 5 euro da buttare via, con 5 euro se ne vincono 1656,57. Quindi avrete già capito che sono tutte e quattro le partite, a parte da Danimarca-Belgio, in cui il due più gol e il due più no-goal sono sotto lo 0,50 di differenza, a favore sempre del no-goal che è favorito. Quindi ci può stare che possa uscire un 1-2, 2-1 per il Belgio, per dire. Le altre danno un po' meno per scontato che l'Estonia faccia gol, che San Marino faccia gol e che l'Armenia faccia gol, teoricamente. Poi magari non segna l'altra squadra. Comunque, giocando invece, Macedonia-Armenia, uno più uno gol. Gibilterra-San Marino, uno più uno gol. Estonia-Georgia, due più uno gol. E Danimarca-Belgio, due più uno gol. Ma è a vostra discrezione, lui soprattutto l'ultima. Con 2 euro se ne vincono 67,62, vedete la differenza. E con 5 euro 169,06. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio. Devo dire che non è che stanno andando malaccio, certo, nulla di eclatante, però sono moderatamente soddisfatto perché solitamente con l'Europa League, la Nation League, la Champions, eccetera, ogni tanto salta fuori sempre il risultato che non ti aspetti e che ti fotte tutta la tua bella bolletta. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!